Ciao, vorrei invitarti alla presentazione ufficiale del primo libro di Besprato, un libro che ho personalmente scritto, curato, a filo d'erba, il metodo Besprato per avere un bel prato. È un libro che è già fuori da qualche mese, però abbiamo deciso di fare la presentazione ufficiale sabato 1 giugno alle ore 18 e 30 all'interno del giardino di Parco Rota a San Vito al Tagliamento, perché abbiamo deciso di fare un evento e perché mi piacerebbe molto che tu partecipassi. Ti do tre motivi. Il primo motivo è che se sei tra coloro che ci seguono ci segui solo su internet, sul blog, sul canale YouTube e mi piaceva l'idea di fare qualcosa di fisico, fare qualcosa di concreto, stringerti la mano, conoscerci e scambiare due parole. Il secondo motivo è perché siamo all'interno della manifestazione Piazza in Fiore, una bellissima manifestazione all'interno delle quale ci sono mostre, intrattenimenti, musica dal vivo e anche la possibilità di mangiare. Il terzo motivo è una sorpresa, per cui non te lo posso dire, ma quella sera presenteremo una novità per Besprato e coloro tra di voi che si registrano nel link che ho inserito in descrizione avranno la possibilità di partecipare all'estrazione per aggiudicarsi questa novità. Ovviamente l'evento, la partecipazione dell'evento è completamente gratuita, non c'è bisogno di iscriversi, ma coloro che lo faranno avranno un plus in più. Bene, con questo è tutto. Ti ricordo, sabato 1 giugno, ore 18.30 all'interno del giardino di Parco Rotta a San Vito a Tagliamento, a filo d'erba, il metodo Besprato per avere un bel prato.